Allora Carlo, le hai avuti i testi? Sì, già stampati, non ti preoccupare, non l'ho ancora letto. Vabbè, meglio così, lo facciamo insieme. Senti, comunque in linea di massima che dici? È un'idea quella di cominciare quest'anno con Dante, facendo Dante? E perché? Beh, sono 700 anni dalla morte. A sol Dante ormai hanno scritto tutto, diciamo la nostra noi. Eh sì, diciamo la nostra. Vabbè, credo che, guarda, io qualcosina credo di averla trovata, una chiave un po' originale, un po' nuova. Ci potremmo giocare, sai? Giocare, ma che modo, che dici? Vabbè, guarda, già col nome, ti do uno spunto, ci potremmo giocare. Cioè, il nome che è il diminutivo di Durante. Eh certo, Dante è il diminutivo di Durante, come trovi su tutti i libri di scuola. Ma hai mai pensato che Dante, il nome, suona molto vicino a... A che? Ah dai, basta che cambi una vocale. Guarda, ce l'hai subito in bocca. Ma che fai gli indovinelli? Senti, pensa a un professore pugliese che spiega oggi il sommo poeta. Ragazzi, oggi cominceremo a studiare... Dente! Eccolo lì! Sì, sì, vabbè, ma che ci fai? Beh, senti un po' che ci faccio. Ascolta, guarda cosa ho trovato nel testo di un famoso antropologo. Un po' curioso, sentiamo. Marvin Harris, la nostra specie. Sta a sentire. Perché la natura ha dato vita a una scimmia che camminava su due gambe? La risposta sta certamente nella sua capacità di vivere a livello del suolo. Nessun animale di grosse dimensioni cammina eretto sui rami degli alberi e tantomeno salta sulle due gambe da un ramo all'altro. Sì, vabbè, ma che c'entra? Vabbè, aspetta, un po' di pazienza. Guarda, finisco di leggere, sono poche righe. Ma il semplice fatto di vivere sulla terra e non sugli alberi non si spiega completamente con la nostra posizione eretta. E' stata la differenziazione tra mani e piedi che ha segnato una nuova tappa evolutiva per la nostra scimmietta in carriera perché al suolo, con un'abilità mai vista prima, ha usato le mani per costruire e trasportare utensili. Ma che cacchio c'entra sta roba con i denti? E soprattutto con Dante. Mi devi lasciar finire. E vabbè, finisci. I nostri denti conservano il ricordo di questa evoluzione. Tutte le scimmie oggi viventi possiedono denti sporgenti, delle zanne, utili per nutrirsi e brandite come armi. Ma i nostri più antichi antenati con mani e piedi differenziati non c'avevano le zanne. Un segno di innocuità, di innocenza? E no! La dentatura umana custodisce un messaggio diverso e molto più sinistro. Il bastone più grosso o con la punta più affilata costruita dall'uomo incute più terrore di chi ringhia solo con denti più affilati. Che ne dici, dai? Un momento. Vuoi parlare di Dante facendo la parodia di Superquark? Ma non capisci, non capisci. Proprio facendo un omaggio a Dante, partendo dall'antropologia, introduciamo la commedia, la divina commedia, con una grande allegoria. Quella che nei nostri denti ancora oggi si nasconde il paradiso, ma anche il nostro inferno, terreno. Se il purgatorio dove lo metti? Nelle gengive? Senti, vabbè, fa tanto l'umorista. Guarda che potremmo anche prendere uno spunto dall'ordine in cui avviene la nostra dentizione definitiva. Quando i bambini perdono e cambiano i denti. Ti rendi conto che è la metafora della perdita dell'innocenza. E anche rimanendo tra le parole, lo sai? Che in bocca ci abbiamo 32 no denti, mangianti. Mangianti? Sì, mangianti. E se vuoi te lo confermo con il dizionario etimologico comparato di indoeuropeo, dal sanscrito greco e latino di Franco Rendic. Senti un po', senti anche questa. Il participio presente del verbo latino edo, che significa mangiare, è edens. Qualora edo fosse un verbo italiano, tale participio sarebbe stato edente. Dens e dente provengono da questi participi, ovviamente con la caduta della iniziale E. E il loro significato originario quindi era mangiante, cioè confermato anche dai nomi sanscriti. Dan e Danta. Danta sanscrito. Lo vedi che persino le citazioni dotte ci aiutano a giocare col nome di Dante? E come no! Una grande citazione di filologia dentista. Ci vorrebbe qualcosa di più intimo, poetico, qualcosa che magari si ricolleghi al suo desiderio sempre attuale di pulizia morale e politica. Guarda che l'ho trovato. Che ne diresti? Lì uno spazzolino? Magari una poesia sugli spazzolini da denti come quella di Zayken. Ce l'ha il testo. Vedi un po'? Leggila un po'? Ah, ma certo come pulizia meglio di così. Valentino Zayken Spazzolini da denti. Contrapposti come sfidanti in un dramma di astratte marionette i nostri spazzolini da denti si sfiorano solleticandosi le setole della stessa tinta fanno indistinti il mio dal tuo. Ne impugnerei uno a caso ma ben altro imperativo che non la prevenzione igienica mi interdice dal farlo. Intendo prolungare l'attesa a un'ulteriore scadenza. Strofinandomi i denti mi tornano alla memoria i tuoi baci iniziali che sapevano di dentifricio altrove bacia la tua bocca pura addentando altre labbra. Eh? 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 Che dici? Adesso ci mettiamo pure a fare la pubblicità al bacio di Paolo e Francesca con un dentifricio antiplacca. Vabbè però vedi vedi anche tra i nostri denti di uomini d'oggi possiamo trovare sentimenti grandi come l'amore la gelosia l'angoscia prova a sentire quest'altro testo questo panorama cieco di Nueva York. Già molte volte mi sono perduto per cercare la scottatura che tiene sveglie le cose e ho incontrato solo marinai gettati sui parapetti e creaturine del cielo sepolte sotto la neve ma il dolore vero era in altri luoghi dove i pesci cristallizzati agonizzavano nei tronchi arene del cielo strano per le antiche statue illese e per la tenera intimità dei vulcani non c'è dolore nella voce esistono solo i denti ma denti che taceranno isolati dal raso nero non c'è dolore nella voce qui esiste solo la terra la terra con le sue porte di sempre che portano al rossore dei frutti ma mica ho capito ma è ovvio che nella voce dell'uomo d'oggi non c'è più energia ed emozione ma in Dante no per lui non esiste solo la terra lui l'aldilà te lo fa sognare quasi percepire guarda guarda che quello che ti ho appena letto è garfia l'orca hai capito mica pizze fichi che hai detto chi ho detto garfia l'orca ah ma sai che lo dici bene ripetene un po' ma va senti po' nella tua dotta ricerca sul dente non hai trovato qualcosa di un po' più diretta e popolare qualcosa che sappia parlare a tutti anche al volgo come voleva il sommo poeta eh potrebbe essere una strada guarda che guarda che se vuoi provocarmi avrai pane per i tuoi danti no senti visto che il romanesco lo mastichi meglio di me vedi un po' tu che ci possiamo fare con l'altro testo quello che viene dopo giochino belli si il dente del papa eh il papa aveva un dolore puttano a un dente magellanico o canino e per servizio di un dentista fino chiamò dalla ritonna il ciarlatano subito anno al palazzo e al castellino a vedere il dente guasto del soprano e lo cacciò con un corpo di mano meglio che fossi stato un zuccherino nostro signore o il papa che è lì stesso perché è padrone di tutta la gente non forse un cazzo fa guardasse appresso e disse bravo non ci hai fatto niente ecche te cento gnocchi e sin da adesso te dichiaramo cavaliere del dente vedi ma lo vedi che anche belli continua la tradizione di dante dei papi padroni assoluti mandati all'infermo beh non esageriamo vabbè perché tu sottovaluti l'inferno del mal dei denti d'accordo d'accordo belli descrive come dante la miseria morale e fisica di certi papi ma il suo orizzonte è troppo locale regionale per stare alla pari con dante ci vogliono testi che coinvolgano l'intera umanità che diano un senso solenne antico mitico magari proprio al mal dei denti guarda che ce l'ho l'ho trovato e pensa è inciso sulle tavolette degli antichi babilonesi se ora pure a Babilonia accidenti a te da anonimo babilonese ti leggo come venne al mondo il mal dei denti dopo che il dio Anu ebbe creato il cielo il cielo creò la terra la terra creò i fiumi i fiumi crearono i fossi i fossi crearono il fango il fango creò il verme ma il verme non aveva nulla da mangiare e andò piangendo da shamash il dio della giustizia eppure davanti ad era il dio della saggezza e pianse pianse cosa mi darete da mangiare gridava cosa mi darete da succhiare io ti ho dato il fico maturo io l'albicocca e la mela ma che me ne faccio dei fichi maturi di albicocca e di mele toglietemi piuttosto dal fango e mettetemi tra i denti dell'uomo tra i denti e le gengive voglio succhiare il sangue dei suoi denti e nutrirmi delle radici delle sue mascelle benissimo rispose il dio della giustizia hai fatto la tua scelta stai pure tra i denti degli uomini tra le loro mascelle ma d'ora in poi e per sempre ea la giusta ti colpirà con la sua mano possente per schiacciarti finito no ma guarda che ti sei dimenticato di leggere le ultime righe le più poetiche ah beh c'hai ragione aspetta è vero infatti aggiunge ogni qual volta avrete mal di denti voi uomini mescolate birra un pezzo di malto e olio mescolate bene ponete l'impasto sul dente recitate tre volte questo racconto e sarà lo scongiuro perfetto contro il verme maledetto sì d'accordo qui è un po' meno poetico però ma di che stiamo a parlare dai queste sono ricette magiche primitive i grandi poeti come Dante vedono lontano e soprattutto sanno guardare non solo nella bocca ma nell'animo dell'uomo sì lo so però purtroppo per fortuna o purtroppo per loro anche i grandi poeti come noi hanno un corpo e e e una bocca e e a volte possono essere anche così golosi per esempio di di gelati che ne pagano le conseguenze e è anche per questo che a volte li li sentiamo più più vicini vedi c'hai un testo adesso che è la lettera di di Giacomo Leopardi al fratello al fratello Carlo Leopardi recanati 7 agosto 1827 Carluccio mio non puoi credere quanto mi abbia commosso la premura che tu ti sei presa di scrivermi con tanta tenerezza per consolarmi dei miei denti non ho consultato ancora nessun dentista del resto la mia malinconia non nasceva veramente dal dispiacere di dover perdere dei denti ma da quel timor pratico dell'operazione che mi sta sempre in pensiero come una condanna da eseguirsi e che mi spaventa come un ragazzino mi dispiace assai che anche tu cominci a patirti i denti ti raccomando guardati dai cibi molto caldi ma soprattutto dai gelati che io per esperienza ho trovato dannosissimi uno dei miei denti che non mi aveva mai doludo in vita mia mi cominciò a dolire per un gelato e non si guarito più intanto Dante tra spazzolini e mal di denti ce lo siamo bello è perso vabbè sembrerebbe lo ammetto però guarda che ci stiamo arrivando il testo di Leopardi che hai appena letto voleva essere solo uno stuzzica Dante sei stucchevole con queste battutine con i giochi di parole ma dove vuoi andare a parare vedi è che proprio grazie ai denti e proprio coi denti di Dante possiamo masticare oggi o se vuoi rimasticare alcuni dei momenti più significativi più importanti proprio della commedia del suo viaggio nell'aldilà no no fammi capire e certo lo faccio capire subito allora ti ricordi siamo all'inferno è proprio all'inizio le anime traghettate da caronte sono nude spossate bianche di paura e che fanno e che fanno secondo te che fanno ma che siamo a scuola dai no mi scusi professore ma oggi non ho potuto proprio studiare potrei essere interrogato domani ma dai piantala su vabbè basta solo un po' di intuizione neanche aver studiato ripassato che diamine naturalmente naturalmente le anime battono i denti e certamente mica solo per il freddo no 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 e nude, cangiar colore e dibattero i denti, ratto che inteser le parole crude, vestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana specie e il loco, il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti, poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo alla riva malvagia che attende ciascun uom che Dio non teme Vedi Carlo, ammesso anche che non ci troviamo d'accordo sulle letture, magari fino al punto da arrabbiarci e di brutto, i rabbiosi, gli iracondi, Dante non li può vedere E certo, li mette all'inferno E quindi ci metterebbe come li mette impastati di fango nel fango a darcele di santa ragione anzi direi di dannata ragione fino a a anche a morderci no fino a sbranarci ascolta un po' e la palude va che a nome stige questo tristo roussel quando è disceso al piede le maligne piagge grigie e io che di mirare stava inteso vidi genti fangose in quel pantano e nude tutte con sembiante e offeso queste si percotea non pur con mano ma con la testa col petto e coi piedi troncandosi coi denti a brano a brano e vabbè, vedi, magari anche noi così impaludati nel fango sai a a chi staremmo vicini a chi ci potrebbe capitare ho capito, ho capito questo lo so mi hanno interrogato a suo tempo pur a scuola è Filippo Argenti eh già quel fiorentino talmente incazzato che prima ancora di addentare agli altri si addenta da solo dopo ciò poco vi dio quello strazio far di costui alla fangose genti che dio ancor ne lodo e ne ringrazio tutti gridavan a Filippo Argenti e il fiorentino spirito bizzarro in sé medesmo si volvea si volvea coi denti va bene, va bene, va bene tutto questo per ricordare che all'inferno gli iracondi si azzannano si d'accordo certo ma mica solo gli iracondi vedi ad esempio Dante mette trova tra i falsari un certo tipo di Arezzo un grande imbroglione che dei morsi ha fatto in vita in morte una specie di di vocazione e l'aretin che rimase tremando mi disse quel folletto è Gianni Schicchi e va rabbioso altrui così conciando oh dissi io lui se l'altro non ti ficchi gli denti addosso non ti sia fatica a dir chi è prima che di qui si spicchi oh mia bambina che eh 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 senti come vedi come vedi siamo con Dante ma in mezzo a denti denti e ancora denti e e li incontriamo sempre di continuo dall'ottavo al tredicesimo canto dell'inferno e e sempre più giù quando si scende per la gravità dei peccati e delle e delle punizioni di ogni peccato di ogni peccatore è come se Dante si facesse spettatore ma anche come ogni buon spettatore rivive un po' in sé l'azione di quello che vede chissà che anche nei momenti più angosciosi della sua vita di condannato di esiliato non abbia pensato anche lui a togliersela la vita e di un po' ma te lo ricordi il tormento dei suicidi? beh insomma sì no beh tenendo conto della regola del contrappasso vabbè vabbè che la pena ricordi in qualche modo la colpa vabbè 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 non te lo ricordi ma no no i suicidi sono descritti come alberi umani che alla fine del mondo dopo il giudizio universale quando quando ci sarà vedranno ricongiuntersi con i loro corpi che verranno impiccati e come appesi a se stessi nel frattempo però e in eterno sono attraversati e devastati da branchi di cani che che come puoi ben immaginare Dante non li ha messi lì per farli leccare di retro a loro era la selva piena di nere cagne bramose e correnti come veltri che uscissero di catena in quel che s'appiattò miserli denti e quel di laceraro a brano a brano poi sem portar quelle membra dolenti immaginate immagine terribile e se adesso eh Carlo se adesso facessimo incontrare chi chi ci ascolta con i tangentisti i corrotti i corruttori insomma quelli che all'epoca di Dante lui stesso chiama barattieri si si ah questa la so mi ricordo la baratteria è l'accusa che Dante trovò più infamante più ancora di quella di pederastia che lo fece condannare in contumacia ci hai azzeccato una volta sei preparato beh io qui credo che quello che Dante immagina che i diavolacci fanno al suo passaggio con Virgilio la sua guida protettrice come sanno tutti è quello che Dante avrebbe voluto fare lui stesso ai suoi accusatori o me maestro che è quel che io veggio diss'io beh senza scorta andiamci soli se tu sai chi per me non la cheggio se tu sei si accorto come suoli non vedi tu che di grignan li denti e con le ciglia ne minaccian duoli ed elli a me non vò che tu paventi lasciali di grignar pur all'or senno che fanno ciò per li lessi dolenti Virgilio rassicura Dante il di grignare dei diavolacci se insomma coi denti si può di grignare anche se è chiaro che è un comportamento che Dante sembra legare più ai diavoli e alle bestie ma ma anche ma che cos'altro e beh ricordati che siamo all'inferno e forse proprio come i diavoli anche stavolta Dante si sarebbe divertito ogni tanto a fare certi caratteristici versi con la bocca e i denti per l'argine sinistro volta di emmo ma prima avea ciascun la lingua stretta con i denti verso l'orduca per cenno va bene va bene all'inferno dannati e cani mordono eh già diavoli grignano e spernacchiano coi denti direi che basti no? no no manco per niente vedi ti stai dimenticando i politici politicanti di ieri e di oggi Dante non se li dimentica che c'entrano coi denti ah vedi non sei preparato come affermi lui i denti non se li dimentica quando accanto alla fiamma che parla del cattivo consigliere Guido di Montefeltro ricorda come certi signori di Romagna i malatesta i denti li usavano li sapevano usare molto bene per succhiare fino al midollo città come Rimini e i loro abitanti il mastin vecchio il nuovo da verrucchio che fecer di montagna il mal governo la dove soglion far di denti succhio e sai che si si ci hai provato ci stai pigliando gusto vedi sai però dove potremmo fare veramente il botto coi denti all'inferno beh visto che stai che stiamo scendendo sempre più in basso sarà la fine no gli ultimi gironi che se non ricordo male sono quelli dei traditori no no non sbagli affatto e ti dirò che per colpire di più chi chi ci ascolta potremmo anche fare un gioco di parole introduttivo Dante tra i tradenti eh che ne dici cietoso guarda meglio di no ma in purgatorio e in paradiso non mi dirai che anche lì c'è qualcosa o magari qualcuno da addentare ma abbi pazienza dobbiamo finire eh l'inferno sai bene che una delle trovate più originali di Dante è descrivere l'inferno più profondo non come la solita fornace infuocata al massimo ma ma proprio come una palude ghiacciata sotto zero da da sorgelatore cucito e e al freddo al freddo gelido di cucito cosa può capitare alla bocca e ai denti e e come a gracidarsi sta la rana col muso fuor dell'acqua quando sogna di spigolar sovente la villana livide in sin là dove appar vergogna era l'ombre dolente nella ghiaccia mettendo i denti in nota di cicogna ognuna in giù tenea volta la faccia da bocca il freddo e dagli occhi il cor tristo tra loro testimonianza si procaccia e vabbè battono i denti anzi battono rumorosamente il becco quello che ricorda il becco di una cecogna e allora? e allora mi deludi tu non te l'immagini proprio cosa cosa possono fare due dannati ficcati nella stessa buca di ghiaccio rigidi come due sorbetti ma esagitati con la bocca e coi denti senti un po' Noi eravamo partiti già da Ello che io vidi due ghiacciati in una buca sì che l'un capo all'altro era cappello era cappello e come il pan per fame si manduca così il sovran li denti all'altro pose lava il cervell s'aggiugne con la nuca Oh! finalmente ci sei arrivato anzi è proprio quello il primo episodio che mi è venuto in mente quando hai cominciato a parlare di Dante di bocca e di denti e come no certo che quei due non erano traditori qualunque uno il conto colino con i figli e quell'arcivescovo come si chiamava? si chiamava Ruggeri l'arcivescovo Ruggeri certo è una storia horror tra le più note te la ricordi pure tu te la ricordi che fai ora dopo aver preso fischi per fiaschi dente per Dante mi prendi pure in giro eh? sì vabbè dai dai che possiamo uscirne come Dante dall'inferno certo qui ecco non so se hai notato il primo piano iniziale che Dante fa come un abilissimo regista è sulla bocca non tanto sul dettaglio dei denti ma alla conclusione dell'incontro la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola ai capelli del capo che li avea di retroguasto quando ebbe detto ciò con gli occhi torti ripresi il teschio misero coi denti che furo all'osso come d'un can forti e a questo punto dopo questa scena terribile drammatica orrorifica proprio puoi immaginare quello che Dante fa fare coi denti al mostro più mostro di tutto l'inferno il boss di tutti i diavoli il demone dei demoni Lucifero con sei occhi piangea e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava da ogni bocca ti rompea codenti un peccatore a guiso di maciulla si che tre ne facea così dolenti e va bene dopo che con le pene eterne Dante ha fatto vedere le stelle suoi dannati sofferenti lui in ogni caso se ne esce contento certo contento a rivedere le stelle vere in cielo ma adesso dimmi un po' come te la cavi eh anzi come ce la caviamo coi denti in purgatorio in paradiso eh mica lo devo dire io sai la grandezza di Dante della sua bocca e dei suoi denti sta proprio qui proprio in purgatorio in paradiso dove l'atmosfera le descrizioni la la narrazione si fa sempre meno meno fisica meno corporea e musica canto e danza e luce sono quelle che prendono sempre più il sopravvento e appunto come diavolo cioè come angelo possano entrarci i denti in purgatorio eh quello è il luogo della purificazione e semmai della nostalgia di ciò che si è perso e si sta solo in attesa della beatitudine future ma questa è la sua grandezza Dante lui ci riesce e ad esempio riesce a comunicarci il senso umanissimo della sua pietà e dei dubbi che possono prendere ancora noi quando vediamo che la morte si accanisce con i più piccoli i pargoli innocenti quelli non ancora neanche battezzati luogo luogo è laggiù non tristo di martiri ma di tenebre solo ove i lamenti non suonan come guai ma son sospiri qui qui sto io coi pargoli innocenti dai denti morsi della morte avanti che fossero dell'umana colpa essenti e non è finita non è finita qui perché come ricorderai vedo stavolta in purgatorio Dante incontra alcuni di quei peccati che pure ha già catalogato all'inferno li ha già messi all'inferno qui però i peccatori di quel tipo di peccati sono in genere quelli che si sono contenuti insomma o alla fine si sono pentiti te lo ricordi no? certo certo mi ricordo ma non mi dirai però che ci ritroviamo dentoni arrabbiati che si azzannano pure qui no arrabbiati no ma denti golosi cioè ingordi e mangioni sì e usare i denti a vuoto in questo caso diventa la pena adeguata che Dante si inventa per certi riccastri bon vivà e crapuloni vidi per fame avvoto usarli i denti Ubaldin della Pila e Bonifazio che pasturò con Rocco molte genti e vedi proprio perché qui al purgatorio e poi di più ancora nel paradiso la voce il canto diventano i protagonisti poteva Dante che da linguista studioso e di tutte le parlate dialettali italiani e in fondo l'inventore dell'italiano dei vulgari eloquenzia dimenticarsi dell'importanza dei denti nell'articolare la voce come a color che troppo reverenti dinanzi a suo maggior parlando sono che non traggoni alla voce viva ai denti avvenne a me che senza intero suono incominciai madonna mia bisogna voi conoscete e ciò che ad essi è buono sai sono proprio curioso di vedere come va a finire con sti denti nell'altilà il paradiso la scuola ce l'hanno fatto studiare poco eh e anche male non mi dirai che dante ci incontra qualche santo dentista o dentista santo no 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 non è così però vedi la grandezza di dante sta sta proprio qui anche quando tratta di teologia quando lo tormenta e si tormenta per un dubbio di natura religiosa persino in paradiso non si dimentica che chi legge i suoi versi come lui che li sta scrivendo è ancora fatto di carne di ossa e avorio cioè anche di denti in tra due cibi distanti e moventi d'un modo prima si morria di fame che liberomo l'un recasse ai denti si si starebbe un agno in tra due brame di fieri lupi ugualmente temendo si si starebbe un cane in tra due dame perché si mi tacea me non riprendo dagli miei dubbi d'un modo sospinto poiché era necessario ne commendo provo a indovinare quale potrebbe essere un altro passo paradisiaco in cui a dante vengono in mente i nostri denti potrebbe essere magari in presenza del sorriso dell'amata Beatrice ci ho azzeccato eh? è così? è così? no no sì e no non te montare la testa come no? no no però in parte ci hai azzeccato perché vedi in un certo senso qui dante parla ancora d'amore eccolo vedi? ormai sono diventato un mezzo esperto magari non un dantista ma ne so qualcosa più di un dentista meglio direi di sì sei entrato nello spirito dell'opera vedi qui dante in presenza di Beatrice si fa fare del San Giovanni Evangelista una domanda sui motivi non solo biblici o filosofici del suo enorme trasporto verso Dio il sommo bene una domanda in cui c'è una parola un verbo molto significativo sull'amore quell'amore che lo ha tormentato ispirato insomma accompagnato per tutta la vita quell'amore che ha avuto per lui tante facce tante forme passionale poetico cortese e poi gradualmente sempre più filosofico spirituale fino a diventare simbolico mistico e questa forza d'amore sempre uguale però sempre così diversa nelle sue forme com'è che la può descrivere ancora in paradiso eh? Carlo mi segui? mi ha mai seguito ti seguo mica voglio rimanere in sospeso proprio adesso ecco ecco allora qui ancora Dante lo descrive come una forza un'energia che è morte morde capisci morde ma di Ankur se tu senti altre corde tirarti verso lui si che tu suone con quanti denti quest'amore ti morde eh? allora che mi dici? che ti dico che ti dico ti dico che a questo punto la nostra lettura potrebbe diventare ehm incisiva? no 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 vabbè sorprendente? no no diciamo pure sorprendente 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 e le sorprendente e le sorprendente es Grazie a tutti Grazie a tutti